E continuiamo a parlare dell'emergenza neve perché nel pomeriggio di ieri è tornato a riunirsi in prefettura Barletta l'unità di crisi per fare il punto della situazione connessa proprio a questa eccezionale ondata di maltempo che ha colpito anche la provincia di Barletta Andriatrani con particolare intensità nei territori di Minervino, Murge e Spinazzola. E' tornata a riunirsi nel pomeriggio di ieri l'unità di crisi presieduta dal prefetto della BAT Clara Minerva per fare il punto della situazione connessa all'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito anche la provincia di Barletta Andriatrani con particolare intensità nei territori di Minervino, Murge e Spinazzola. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti della provincia di Barletta Andriatrani dei dieci comuni Forze dell'Ordine, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, Servizio 118, Ufficio Veterinario della ASLEBAT, l'82esimo Reggimento Fanteria Torino di Barletta, il nono Reggimento Fanteria Bari di Trani, ANAS, Autostrade, ENEL, Caritas di Barletta e coordinamento delle associazioni di volontariato e di protezione civile. Il prefetto intanto ha ringraziato tutti per l'azione sinergica posta in essere a tutela dell'incolumità pubblica nelle giornate dei corsi e ha evitato tutti a mantenere attivi i dispositivi in essere, in particolare per assicurare adeguate condizioni di transitabilità sulla rete viaria continua l'attività di salatura delle principali arterie stradali al fine di prevenire la formazione di ghiaccio a causa delle temperature ancora molto rigide. La circolazione dei mezzi, se necessaria, ricorda il prefetto, dovrà obbligatoriamente essere effettuata con pneumatici da neve o con catene a bordo, come prescritto dal provvedimento adottato dal prefetto all'inizio dell'emergenza. Con i sindaci, poi, è stato fatto il punto della situazione sull'assistenza alle persone, in particolare senza fissa dimora, per le quali sono stati predisposti opportuni interventi con la collaborazione delle associazioni di volontariato. Particolare attenzione, il prefetto ha richiesto ai sindaci nel monitorare, con la collaborazione del servizio veterinario delle ASL, le aziende zootecniche presenti sul territorio, che dovessero incontrare difficoltà per le temperature rigide. Su richiesta, poi, del Comune di Spinazzola, in relazione ad eventuali rotture dei contatori del servizio idrico e interruzione dell'erogazione dell'acqua dovute alle basi e temperature, l'Acquadotto Pugliese ha precisato di aver attivato un servizio di call center al numero 800 735 735 o all'indirizzo di posta elettronica emergenzagelo.acup.it, tramite i quali è possibile effettuare le segnalazioni. Ricordiamo che l'unità di crisi in prefettura sta monitorando la situazione sin dallo scorso 5 gennaio, tenendo riunioni pressoché quotidiane con le istituzioni del territorio provinciale, al fine di gestire l'emergenza proprio nel migliore dei modi.